Supplemento di indagini perché la procura di Mantova vuole capire se nel suicidio di Giuseppe De Donno, l'ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e padre della terapia contro il covid con il plasma iperimmune, trovato dai familiari nella sua casa di Eremo di Curtatone, possano esserci responsabilità di terzi. Dopo il sequestro dei suoi cellulari e del computer, gli inquirenti vogliono capire se qualcuno possa aver indotto l'ex primario che il 5 luglio aveva iniziato la nuova attività come medico di base a Porto Mantovano, dopo aver lasciato l'ospedale, a togliersi la vita senza lasciare alcun messaggio. Il corpo del medico si trova alle camere mortuarie dell'ospedale Carlo Poma di Mantova e domani verrà effettuata l'autopsia. Questo inevitabilmente allungherà i tempi per la camera ardente e il funerale. Dovrebbe infatti tenersi la prossima settimana tra martedì e giovedì in municipio proprio a Curtatone per volontà della famiglia. De Donno era diventato il simbolo della lotta al virus con il plasma dei guariti utilizzato per i malati, che tante vite ha salvato. Era stato per questo criticato, osteggiato. Sono state salvate anche persone in condizioni gravi, come ha confermato l'avvocato Cecilia Di Toma, che un anno fa ha diffidato tutte le regioni a istituire le banche dati per il plasma e che si spende per i pazienti che scelgono di curarsi con questa terapia. Anche malati con C-Pub sono stati salvati. Ora però le cose sono cambiate. Non lo utilizzano, assolutamente. Ci sono pochi ospedali ma lo devi chiedere, lo devi chiedere. Devi assolutamente chiedere, devi insistere. Perché ti dicono non c'è evidenza, non ci sono protocolli, cioè la sperimentazione è andata male e non lo vogliono fare sostanzialmente. C'è anche poca raccolta. Complesso anche il meccanismo per il suo utilizzo. Dipende da regione a regione. No, non deve essere organizzata al ministero. Ogni regione si è organizzata di conseguenza. Ci sono alcune regioni che la richiesta deve passare da un comitato etico al comitato etico che dà l'ok e appunto lo possono fare. Però direi che allo stato attuale è una scelta discrezionale dell'ospedale.